In auditorium Giovanni Spadolini a Palazzo del Pegaso, i presidenti del Consiglio regionale e della giunta Antonio Mazzeo ed Eugenio Gianni si sono rivolti all'intera Toscana per il tradizionale scambio di auguri di buone feste. La direttrice della nazione premiata nell'ambito della quinta edizione del Comunicatore Toscano dell'Anno organizzato dal Corecom della Toscana. Una cerimonia nel centro espositivo Carlo Azzeglio Ciampi per chiudere simbolicamente i 100 giorni di eventi per celebrare i 700 anni della morte di Dante Alighieri. Un'esposizione nata da un'idea dell'artista Daria Palotti che mette in mostra una selezione di oltre 2000 contributi da tutto il mondo. Bambini e anziani hanno disegnato un paio di ali sull'immagine di Patrick Zaki. Scambio di auguri in Consiglio regionale. In auditorium Giovanni Spadolini a Palazzo del Pegaso di fronte ad autorità civili, militari e religiose si è svolto il tradizionale scambio di auguri di buone feste con i presidenti del Consiglio e della giunta regionale Antonio Mazzeo ed Eugenio Gianni. Mazzeo non ha mancato di soffermarsi sull'emergenza sanitaria. Che sia un inizio d'anno diverso da quello che si è appena concluso, un anno di speranza, un anno vero di ripartenza. Abbiamo vissuto mesi difficili, ma consentitemi di dire che sono orgoglioso dei nostri medici, del personale sanitario, per tutto il lavoro che hanno svolto in questi mesi, ma anche dei cittadini toscani che hanno creduto nella scienza e nei vaccini. È chiaro, ora è il tempo di ripartire provando a mantenere un po' di quelle regole che in questo periodo ci hanno accompagnato e non è semplice, lo capiamo, però viviamo questi giorni rispettando queste regole vicino alle nostre famiglie, a chi vogliamo bene e guardiamo speranza e ottimismo al futuro. Sulla stessa lunghezza d'onda, il governatore Gianni, che ha fatto riferimento a quell'84% di copertura vaccinale della Toscana. I migliori auguri per il 2022 a tutti i cittadini della Toscana, a tutti coloro che vivono come comunità, quello che è una delle regioni più attrattive, più belle, più ricercate del mondo. Abbiamo di fronte un'emergenza, che è l'emergenza sanitaria, che sempre più viviamo come contrasto attraverso la vaccinazione e a loro dico che siamo orgogliosi che attraverso gli interventi che come pubblico abbiamo fatto per organizzare attraverso il nostro sistema sanitario la vaccinazione, arrivando a circa 7 milioni di vaccinazioni nell'arco del 2021. In realtà la Toscana si presenta come la più vaccinata d'Italia, perché la nostra copertura vaccinale è ormai dell'84%, più di un milione e centomila abitanti. Certo, non ci dobbiamo fermare qui, perché significa che rispetto ai nostri 3 milioni e 668 mila abitanti ne mancano circa 560 mila, più di mezzo milione di persone che non sono vaccinate e che poi sono quelle che maggiormente favoriscono ancora il corso del vaccino. Per chi non lo può fare, i bambini, è evidente che ne prendiamo naturalmente atto come elemento statistico. Per chi lo potrebbe fare, invece, l'invito è a vaccinarsi, perché fanno servizi a se stessi, ma lo fanno anche alla comunità. Io ritengo che la Toscana si stia davvero comportando bene sotto questo aspetto e non a caso oggi ancora abbiamo, nonostante molti contagi, margini per non porre limitazioni alla mobilità delle persone. Ma al di là di quello, il mio è un aspicio che il Governo si renda conto di questo sforzo e preveda le risorse perché i nostri hub, i nostri operatori, siano il più possibile presenti operativi, senza costringerci a dover pensare a dove troviamo i soldi per poter tenere in piedi quello che è il sistema sanitario regionale, che è quello che, al di là di tutto, quello che possiamo pensare o parlare o esprimere, ma nei fatti è il sistema attraverso cui si sono fatte le vaccinazioni e si è dato risposta a quello che è una struttura, quella sanitaria della Toscana, che è veramente posta come un esempio. Corecom Agnese Pini, comunicatrice Toscana 2021 È la prima donna in 160 anni di storia a dirigere la nazione. Agnese Pini, classe 1985, la più giovane direttrice di Un Quotidiano, è la comunicatrice Toscana 2021. Il riconoscimento promosso dal Corecom l'è stato conferito nel corso della cerimonia che si è tenuta alla biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo. Dicevere un premio intitolato al comunicatore toscano, alla comunicatrice in questo caso, davvero appare come un bellissimo regalo di fine anno, quindi sono davvero grata al Corecom per aver pensato a me per questo riconoscimento così bello e prestigioso che arrivando a casa propria assume chiaramente un significato ancora più intimo, profondo e importante. Rivolgendosi agli studenti del liceo Machiavelli di Firenze, che fanno parte della redazione del giornale scolastico Hermes e che hanno partecipato alla premiazione insieme a due loro insegnanti, Pini ha evidenziato il ruolo fondamentale dei giornali. Lo saranno anche dopo la trasformazione digitale, ha detto, perché senza giornali non esiste la democrazia e viceversa. È un momento difficile questo per l'informazione in generale, per la carta stampata in particolare, è un momento di grande trasformazione industriale, quindi con tutte le incognite del caso, le difficoltà del caso, ma proprio per questo è entusiasmante, perché si ha la sensazione appunto di attraversare un momento storico per la nostra professione, che quindi va vissuto nel migliore dei modi possibili, cogliendo tutte le opportunità del cambiamento insieme alle difficoltà. A premiarla è il presidente del corecom Enzo Brogi. Dirige il giornale in un momento molto complicato per la carta stampata, ma che cerca di guardare alla comunicazione in un modo estremamente originale, moderno. La rivista Forbes l'ha considerata una delle cento donne più influenti nel nostro paese e allora ci sembrava giusto che una Toscana, una giornalista di questo talento, avesse anche il riconoscimento del corecom della Toscana. Alla premiazione sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il vicepresidente Stefano Scaramelli. Io sono davvero orgoglioso di poter premiare Agnese Pini, una donna impegnata, una donna che sta cambiando anche il modo di fare comunicazione. Credo il corecom abbia fatto una scelta davvero giusta. Oggi bisogna investire molto sull'informazione. In un tempo in cui le fake news corrono veloci sulla rete, avere qualcuno che in maniera critica riesce a dare punti di vista anche diversi aiuta la democrazia. Credo noi dobbiamo investire sempre di più per sostenere il servizio pubblico locale a livello delle capacità delle emittenti locali, dei giornali locali, di esprimere un pensiero critico. Aiuta la politica e aiuta i cittadini. Dante 700, la chiusura degli eventi. Si sono chiusi il 16 dicembre con una cerimonia nel centro espositivo Carlo Azzeglio Ciampi, 100 giorni di eventi, manifestazioni, installazioni organizzati dal Consiglio regionale della Toscana per celebrare i 700 anni della morte di Dante Alighieri, simbolo e icona della cultura italiana. Durante l'evento è stato proiettato il video che racconta tutte le iniziative del Consiglio regionale, una raccolta di immagini, emozioni e interviste. Per l'evento conclusivo il presidente Mazzeo ha voluto anche l'avatar divina che compone terzine personalizzate. Io sono orgoglioso delle iniziative di questi mesi in cui abbiamo portato Dante in tutta la Toscana. Lo abbiamo fatto con i bambini, i dantini. È stata un'esperienza unica, emozionante. Ho domandato ai bimbi come finiscono le tre canti e quali sono la parola e tutti a urlare stelle. Non potete capire l'emozione nel vedere questi bimbi così appassionati. Abbiamo fatto un bel regalo a Monteroni d'Arbia, Poppi, Castagneto Carducci, la Toscana diffusa, Dante dovunque. Poi Simone Cristicchi ci ha fatto emozionare con il suo paradiso a Grosseto e a Pisa. Infine l'iniziativa più innovativa, la vedete alle mie spalle, l'avatar di Dante in cui è possibile avere una terzina personalizzata della Divina Commedia. È un modo per portare Dante vicino ai cittadini della Toscana, per attualizzare il suo messaggio ancora forte, per far vedere quanto è bella la nostra regione. Un grazie a tutti i colleghi consiglieri che si sono impegnati, alla Presidente Giacchi, agli uffici. Senza di loro non sarebbe stato possibile. Insomma, Dante alla portata di tutti. A partecipare ai tanti eventi è anche il Vice Presidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli. Intanto si corona un anno di iniziative, di ricorrenze. È stato un anno importante dove il Consiglio regionale ha creduto fortemente nella voglia di ricordare Dante, il sommo poeta che di fatto è ancora presente in tutti noi, nella nostra cultura, nella nostra tradizione. Credo che il passaggio più importante sia stato quello di aprirsi come volontà dell'Ufficio di Presidenza, anche alle nuove generazioni, l'esperienza dei dantini nelle città, nelle esperienze di Fus, nei ragazzi, è stata a mio avviso una dimensione straordinaria di contatto e di innovazione, di come ricordare Dante. Allo stesso tempo si è provato a fare uno scatto in avanti con le nuove tecnologie e con la possibilità di introdurre e di comprendere come l'attualità della nostra storia sia ancora presente in questi giorni. La Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giacchi, ha ricordato l'universalità della poesia di Dante. In realtà mi colpisce la capacità della Divina Commedia e della poesia di Dante di davvero dimostrarsi sempre in quella universalità di cui è portatrice. Noi lo sappiamo, Dante è un poeta universale, canta l'uomo, l'essere umano in tutte le sue spaccettature e vederlo declinato da così tanti artisti e vederlo declinato in questi modi che anzi incontrano la tecnologia più avanzata è davvero stupefacente. Devo dire che tutta l'esperienza dei 700 anni di Dante qui al Consiglio regionale ha avuto proprio questo obiettivo principalmente, dare forma plastica all'attualità e alla universalità di Dante facendolo incontrare con tutti i toscani e le toscane possibili, portandolo alla porta di casa dei nostri concittadini e grazie alla qualità degli interventi che sono stati selezionati questo è stato possibile mantenendo altissimo il livello dell'espressione artistica e selezionando progetti davvero straordinari come questo dell'Avatar che ha accompagnato cose più tradizionali ma anche di grande potenza innovativa sociale come i Dantini di Ventilucenti nei comuni della Toscana. Ali per Zaki mostra i disegni per Patrick da tutto il mondo Oltre 2000 tra bambini, anziani, scuole hanno disegnato un paio di ali sull'immagine di Patrick Zaki. Adesso una selezione di questi disegni è in mostra fino al 28 dicembre nel centro espositivo Carlo Azzaglio Ciampi in via De Pucci a Firenze. L'iniziativa è nata da un'idea dell'artista D'Aria Palotti sostenuta dal comune di Vico Pisano. L'idea iniziale era di fare un'immagine da mettere all'esterno del comune però visto che ci piace coinvolgere le persone o almeno a me piace fare lavori dove coinvolgo le persone di solito i bimbi mi faccio i laboratori artistici, avevamo pensato di fare le ali. Le ali è stata l'idea che è venuta istintivamente quando ho pensato all'immagine per Patrick Zaki, le ali di libertà, forse anche un po' semplice come idea però insomma ha funzionato. Quindi l'idea iniziale era di coinvolgere i bimbi e di fare tante ali a Patrick Zaki però eravamo in tempo di piena pandemia e quindi tutto questo forse anche grazie alla pandemia è stato trasportato in via telematica e con questo fatto di usare appunto internet siamo riusciti ad arrivare in tutta Italia, fuori dall'Italia, fuori dall'Europa e le ali sono arrivate da tantissime parti, sono arrivate tantissime ali. L'idea era di disegnare ali sull'immagine di Patrick Zaki e hanno partecipato bimbi, anziani, scuole intere, tantissima partecipazione fin da subito, che ci ha sorprese molto perché non ce l'aspettavamo e quindi adesso siamo qui a conclusione mettendo in mostra queste ali, una parte, una selezione perché non potevamo esporre le circa due mila ali che sono arrivate e siamo contenti di poter fare la mostra anche in coincidenza con la liberazione di Patrick Zaki. È partita dal Comune di Bicomissione, è partita non dall'amministrazione ma da un artista che si chiama Daria Palotti che è qui presente e che ci tengo veramente a ringraziare e è stata poi supportata oltre che da noi dal Consiglio per le pari opportunità e è stata una cosa entusiasmante perché per un piccolo comune come il nostro, 8600 abitanti, fare una cosa con questa risonanza, con questa qualità ma soprattutto con questo livello di partecipazione, tantissimi disegni avvenuti da tutta Italia, una partecipazione intergenerazionale, interregionale così è stata veramente una soddisfazione molto grande. All'inaugurazione erano presenti anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e in videoconferenza Rita Monticelli, coordinatrice del Master Gemma frequentato da Patrick Zaki all'Università di Bologna. Monticelli ha riferito di essere sempre in contatto con Zaki che sa della mostra allestita in Toscana. Patrick Zaki è stato da poco scarcerato dopo 669 giorni di prigione. Si attende la conclusione del processo in Egitto perché possa tornare definitivamente libero. Quando si ottiene un risultato provvisorio perché la libertà è tale, però importante è perché tutti hanno fatto bene quello che sanno fare meglio. A questa mobilitazione dal basso enorme iniziata da Bologna ha seguito un movimento di società civile, di enti locali, di artisti e l'arte sicuramente ha dato un enorme contributo perché ha saputo raccontare la storia di Patrick in maniera vivace, bella, in maniera molto più utile rispetto a tante parole scritte. e quindi è un piacere vedere finalmente queste opere e da parte di Amnesty International c'è un enorme ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. Quando gli enti locali e una regione importante come la Toscana hanno a cuore i diritti umani ne trae vantaggio il nostro paese, ne traggono vantaggio le vittime delle violazioni dei diritti umani ed è un segno di progresso e di civiltà.